Gli ultimi partecipanti devo dire che hanno un nome che calza pennello, anche perché io ho provato a vederli in casa e quindi vi presento... Come hai provato a vederli in casa? Ecco le vie, erano tutti a casa nostra, mette più in cielo Ah, vedi Amici, amici Vi vicino la mandata a Carabinieri, lo dico solo Allora vi presento i matti per casa, Mauro e Luca, che ci calteranno, ho un cuore grande così Vedendo come sono entrati, mi sa che sono andato un po' Sono serio, sono serio Prego, maestro Grazie Oh, questa voce canto senza fiore Che farmi sentire non fa E da sempre io canto con il cuore E quando ti erano tutti spettano un fiore Voce Spero che non c'è altra ragione Oltre a questa bruciante passione Eccovi qui, amici miei La grande volta per me siete voi Questo abbraccio ci unisce ora niente Ci può più fermare Ho un cuore grande così Che mi fanno l'amore Con una volta che nasce colento Non mi faccio adormire Questo abbraccio per voi Al mondo voglio guidare E' un sentimento previoso Una stella sul fondo del mare Che brillo divina nel buio Non si lascia toccare Grazie 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 Grazie